Il calcio d'inizio spetta l'Italia. Andrea Pirlo serve il compagno. Marchisio. Molinaro. Pirlo. Prova a fermarlo. Non accenna a rialzarsi. Potrebbe essersi infortunato. Entra sull'afferzario. Sembra che ce la faccia continuare. Per fortuna Fabio. Simone Pepe. Pirlo. E sarà rimesso dal fondo. Pallonetta a servire compagno. Pirlo. Bonucci. Tenta il contrasto. Rakitic. Modric. Lukojevic. Palla a compagno. Cerca la rete. Presa. Sicura del portiere. Modric. Rakitic. Inizia il contrasto. Che? Il direttore di gara assinia una punizione alla Croazia. È in grado di far male al portiere da questa posizione. Amauri con Luca. Possibile cambio di brutto. Palla Luca. Palla laterale. Modric. Rakitic. Serve il compagno. Prova a fermarlo. Modric. Rakitic. De Rossi interviene sull'avversario. Allontana la palla. Direttamente in fallo laterale. Pranici.